Onorevole Catanzaro, finalmente la pesca ha la sua legge, finalmente i pescatori potranno organizzarsi, anche se le problematiche sono tante, mi riferisco anche a quello che è successo a Favignana per le quote tonne. Quali sono gli aspetti positivi però di questo provvedimento che Lars ha votato? Intanto devo dire che dopo 18 anni si è riuscito a riordinare la legge sulla pesca, è un fatto dal mio punto di vista straordinario perché ne vado anche io molto fiero perché oltre ad essere il primo firmatario sono stato anche presentatore del disegno di legge numero 292 che appunto mercoledì è diventata legge. È chiaro che comunque bisogna fare una distinzione perché noi come regione siciliana possiamo intervenire entro le 12 miglia perché le competenze sono le nostre, è chiaro che dopo le 12 miglia non sono competenze nostre in quanto le acque sono internazionali e quindi della comunità europea. Io ritengo che questa legge abbia sicuramente un gettito positivo nel nostro territorio e parlo come nostro territorio soprattutto nella nostra costa agrigentina perché appunto la legge è stata approvata con 42 articoli, ci sono molti argomenti caldi per il nostro territorio ad esempio l'ittiturismo, la pescaturismo che ovviamente danno un grande respiro sia ai pescatori ma anche alle attività turistiche. Parlo del turismo azzurro, parlo ovviamente delle strade del tonno, parlo anche della pesca sportiva che abbiamo appunto avuto gli apprezzamenti dalle associazioni nazionali della pesca sportiva ovviamente parlo anche della rimodulazione dei mercati ittici, parlo di una regolamentazione appunto anche degli stessi con una rete dei comuni e dei mercati ittici perché questo appunto è un volano che può valorizzare il nostro prodotto e quindi il nostro pescato e renderlo un prodotto d'eccellenza come prodotto siciliano. Quindi io ritengo che in un'intervista non si possono sviscerare tutti gli articoli della legge sulla pesca però è chiaro che ci sono molti argomenti che danno un enorme valore alla pesca in questo territorio e mi deve consentire anche di sottolineare una cosa che appunto è da 18 anni che non veniva toccato questo settore. Io ritengo che appunto in campagna elettorale ho preso un impegno con i miei elettori e con i territori perché non dobbiamo dimenticare che noi partendo da Sciacca che è la seconda marineria più antica arrivare a quella di Licata, Porta Empedocle, il nostro territorio vive di pesca come di agricoltura e io oggi sono il vicepresidente di questa commissione e quindi sto lavorando appunto su questi temi.